Ministro, ponte sullo stretto, è la volta buona? Tanto ascoltavo le parole che condannano l'ideologia che poi ci porta al ponte. In questa manovra abbiamo messo i soldi necessari per bloccare la plastic tax e la sugar tax. Altra follia che sulla carta avrebbe dovuto tutelare l'ambiente, se applicata avrebbe messo fuori mercato le aziende italiane che sono fra le più green e innovative d'Europa. Quindi una tassa suicida che nel nome dell'ambiente avrebbe bloccato la ricerca delle energie più sostenibili d'Europa. E' per questo che quando c'è un no o un sì ideologico non supportato dai fatti rischi il danno. Il ponte, io mi sono studiato, sto studiando, è un ministero bellissimo, stimolante, sfidante, come dicono gli anglosassoni, con tecnici di primissimo livello. Il ponte comincia il suo iter nel vicino 1969. Io sarei nato quattro anni più tardi all'ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Dossier su dossier, ho visto una pubblicazione a proposito di Green e pensando a quello che Guido diceva a proposito delle CO2, delle emissioni risparmiate grazie all'innovazione che a bordo delle navi Grimaldi sono operative. Il ponte, al di là delle questioni economiche, lavorative, ingegneristiche, secondo uno studio promosso da Rotary di alcuni ingegneri, pubblicato l'anno scorso, farebbe risparmiare 140.000 tonnellate annue di anidride carbonica emessa e ripulirebbe il canale di Sicilia, lo stretto di Sicilia, perché ovviamente non circolerebbero i traghetti che qualcosa sul fondo lasciano e soprattutto l'intermodalità, il trasbordo veloce, le ferrovie, il collegamento non messina-reggio. Quello è un canale, è un corridoio europeo Palermo-Berlino. Io lunedì prossimo sono anche a parlare di ETS a Bruxelles. Abbiamo la riunione con la Commissaria Europea e i Ministri dei Trasporti Europei non solo sul mare ma sull'aria, perché anche lì ci sono alcune impuntature ideologiche, penso alle restrizioni imposte dal Fit for 55 sul settore dell'auto, passo dal camion e alla nave all'auto, non può imporre alle aziende di vendere solo Euro 7 diesel dal luglio 2025 quando già gli dici che tanto dal 2035 sono fuori legge le auto a combustione interna, ma è chiaro che significa legarsi mani e piedi all'industria cinese. Ogni tanto mi viene il dubbio che a Bruxelles ci sia qualcuno non a libro paga dei cittadini europei, ma a libro paga della Repubblica Popolare Cinese, perché altrimenti alcune scelte economiche assolutamente suicide non si spiegherebbero. E questo è mi ricollego anche alla tassa sull'inquinamento che porterebbe a inquinare di più, sostanzialmente. Il ponte, io in questi 38 giorni ho fatto già almeno una decina di riunioni tecnico-operative, in manovra di bilancio c'è la norma che riporta in vita, in bonus, la società stretta di Messina S.P.A., che è una società nostra, vostra, ANAS, Regione Galabria, Regione Sicilia, RFI, che ha già lasciato a terra circa 300 milioni di euro nell'arco di questi decenni per arrivare a quest'oggi. E quindi l'obiettivo è rimettere in vita la società, poi non faccio l'ingegnere. C'è un progetto che fu approvato nel 2011, bloccato nel 2011. Il ponte cosa significa? Significa lavoro vero, non bonus o redditi di cittadinanza. Significa decine di migliaia di posti di lavoro vero. Significa sviluppo non solo per la Sicilia e la Calabria, ma significa attrattività per l'intera Italia. Significa attrarre dall'estero i migliori cervelli e i migliori ingegneri, noi ne abbiamo di nostri, però per venire a fare l'opera che suppongo a campata unica più ambiziosa, avveniristica della storia, più green, sarebbe la grande opera più green, eco-compatibile, eco-sostenibile della storia. Io lunedì vado a Bruxelles anche a trattare un eventuale co-finanziamento, visto che noi mettiamo nero su bianco in manovra di bilancio che è un'opera prioritaria. Come prioritaria la TAV, su cui abbiamo messo altre infrastrutture che qualcuno voleva fermare, con l'esame costi-benefici, abbiamo passato delle notti con Edoardo, se lo ricorderà, lo studio costi-benefici, alla fine abbiamo vinto, per fortuna non nostra dell'Italia, perché qualcuno ci voleva convincere, numeri alla mano, che costava di meno riempire il buco sotto la montagna che non continuare a scavare il buco sotto la montagna. Fortunatamente le macchine stanno andando avanti. Vale per il tunnel di base del Brennero, con un'avvertenza, io questo lo dirò a Bruxelles e ai colleghi, o l'Europa c'è per tutti o non c'è per nessuno, perché l'Austria unilateralmente, e voi lo saprete, impone delle restrizioni al traffico merci in ingresso dall'Italia. Se l'avessimo fatto noi saremmo sotto sanzione da parte della Commissione Europea, lo fanno sul fronte tirolese, nulla a questio. Di più, noi stiamo mettendo dei gran quattrini sull'A22, io ho incontrato il Presidente di Trento, di Bolzano, il Sindaco di Mantua, il Sindaco di Verona, la Regione Emilia-Romagna, perché ci sono 7 miliardi da spendere su questa infrastruttura. Pare che l'Austria voglia mettere in manutenzione un viadotto in Tirolo che bloccherebbe il traffico commerciale, ci porterebbe le code fino a Verona. Ora, se sono cittadino europeo, io, lo è anche il tirolese, se le regole valgono per l'italiano, valgono anche per il tirolese, altrimenti c'è qualcosa che non funziona. Quindi lunedì ne avremo di merci sul tavolo, vediamo se ci sarà un confinanziamento sul ponte. Io devo dire che la Regione Sicilia è d'accordo, la Regione Calabria è d'accordo, istituiremo un tavolo tecnico comprendendo anche il Comune di Messina e il Comune di Reggio Calabria, perché da autonomista e sostenitore dell'importanza dei sindaci, che non vanno puniti ma vanno aiutati a fare il loro lavoro, poi se sbagliano c'è la magistratura, però la politica dovrebbe aiutare l'amministrazione locale a lavorare. Quindi che cosa si può fare, e mi taccio, nell'arco dei prossimi 5 anni, finire il ponte? No. Avviare i lavori? Sì. Se tutto va bene, se la manovra di bilancio passa col riportare in vita la società stretta di Messina. Poi ci sono contenziosi in essere da anni per centinaia di milioni di euro, che evidentemente andranno chiusi. Poi c'è il dibattito, ma riporti in vita la gara che fu vinta e assegnata dieci anni fa, o rifai una gara nuova. Ma il progetto rimane quello? Il progetto è definitivo ormai o no? Non farmi dire cose che aspetta ad altri dire. Io ho le mie idee. E quali sono? No, che poi mi aprono tre inchieste, quindi già c'è un articolo che è uscito nel weekend per aver riattivato, ma io l'ho sempre detto, io credo nel ponte, io credo nella velocità che collega Sicilia e Calabria, quella è vera continuità territoriale, non il traghetto. È uscito un articolo a tutta pagina, Salvini fa un regalo agli imprenditori. Se facciamo dopo 50 anni di chiacchiere il ponte sullo stretto di Messina, non è un regalo agli imprenditori, è un regalo agli italiani e ai nostri figli. Quindi costasse quello che costasse io vado fino in fondo. Il progetto c'è, va aggiornato, però se ci rimettiamo io e te a fare un progetto ci servono quattro legislature, non una legislatura. Diciamo che mi piacerebbe che i primi scavi partissero da qui a due anni. Bene.